E' stata allestita l'area cantiere per la realizzazione della nuova scuola di Marginone nel comune di Alto Pascio e a gennaio 2024, tra pochi giorni, partiranno le opere di scavo e fondazione. Intanto l'area è stata recintata, sono stati posizionati i cartelli, pulito il terreno e picchettata la zona di scavo del fabbricato. La nuova scuola sostituirà quella esistente a poche decine di metri di distanza e consentirà agli studenti e al corpo docente di avere spazi più grandi e più moderni, maggiormente funzionali alla didattica, sostenibili anche dal punto di vista ambientale. Il nuovo edificio sorgerà tra via di Poggio e via Generale e la Marmora. Sarà sviluppato su un solo piano per 1100 metri quadrati, con la palestra di 200 metri quadrati, due laboratori, cinque aule, spazi per insegnanti e personale scolastico, area verde attorno. L'edificio sarà inoltre energicamente efficiente e moderno sotto ogni punto di vista. La giunta d'Ambrosio sta lavorando alla realizzazione della scuola fin dal primo mandato. Nel 2018 infatti l'amministrazione comunale aveva candidato il progetto in regione toscana per ottenere i fondi della Banca Europea degli investimenti sull'edilizia scolastica, piazzandosi però nella parte bassa della graduatoria. Nei mesi scorsi però quella graduatoria è cambiata e la nuova scuola di Marginone ha ottenuto il finanziamento pari a 1 milione e 400 mila euro proveniente dal PNRR. L'importo complessivo dell'opera è di 2 milioni e 200 mila euro.